non è cosa mia cosa meglio di mia noto che... no, non sta venendo ciò ogni tanto viene da buttare nelle sue muggeri con il suo figlio, il suo cuoco non c'ha prendo il cuoco capito? nasce minne Grazie a tutti. Capito? In settimana noi facciamo 10, 7,5, dipende proprio dai clienti. Ho capito pure. No, dove sta lavorando? All'ancio, sempre di... peggio. Beppe, uno sabato finiamo quasi 4000 sterlini, voleva morire io. Serviz! Capito? Spero, tu, qui. La differenza. Capito?